un minuto con padre pio da questo luogo particolarmente caro a tutti noi dalla cella numero uno chissà quanti di voi siano stati qui e hanno visitato la cella di padre pio i suoi ricordi dove ha trascorso tra questo luogo e la cella numero 5 che è in clausura tutta la sua esistenza in questo convento il convento dei cappuccini di san giovanni rotondo chissà quanti racconti episodi sono racchiusi le stesse mura sono state testimoni di questi episodi di questi fatti beh sicuramente anche di questo episodio epistolario numero 4 nel primo giorno dell'anno noi abbiamo delle meditazioni di padre pio fu proprio padre ezechia cardone che negli anni 60 si trovò qui a san giovanni rotondo proprio ospite del convento e chiese possiamo immaginare ecco anche l'intento di padre ezechia chiese un quaderno a padre pio dei fogli per conservarli per tenerli per sé dei fogli di carta beh lo stupore di padre di padre ezechia perché fu tale perché padre pio gli consegnò un quaderno di circa 160 fogli di cui i primi 60 erano stati usati da padre pio c'erano delle meditazioni scritte e tra queste c'è una meditazione interessante che vogliamo condividere con voi in questa giornata il primo giorno dell'anno padre pio scrive scrive e parla al plurale quindi scrive a tutti noi incominciamo oggi o fratelli a fare del bene che nulla fin qui abbiamo fatto sono delle parole che il serafico padre san francesco nella sua umiltà applicava a se stesso rendiamo le nostre all'inizio di questo nuovo anno veramente dice padre pio e lo dice proprio a tutti noi nulla abbiamo fatto fino ad oggi o se non altro ben poco gli anni si sono sosseguiti nel sorgere e nel tramontare senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati se niente vi era da riparare da raggiungere e aggiungere da togliere nella nostra condotta abbiamo vissuto all'impensata dice padre pio come se un giorno l'eterno giudice non dovesse chiamarci a sé e chiederci conto del nostro operato del come abbiamo speso il nostro tempo eppure di ogni minuto dovremo rendere strettissimo conto di ogni movimento della grazia di ogni santa ispirazione di ogni occasione che ci si presentava di fare il bene e padre pio ci richiama e ci dice continuiamo a farlo anzi incominciamo oggi in questo primo giorno dell'anno incominciamo a fare del bene riprendendo delle parole del suo serafico padre san francesco perché nulla fin qui abbiamo fatto